Il trionfo Berlusconiano non sono riusciti a metterci sotto e a poco a poco, con santa pazienza diceva, tutti i giorni mi chiedevano di fare la polemica con qualcuno che faceva la polemica io non ho mai fatto la polemica, ci vuole anche pazienza ragazzi se l'obiettivo è quello lì se il bambino nella cula che è gracile, devi curarlo bene non è che puoi strapassarlo perché l'obiettivo è quello lì e devi averci chiaro che l'obiettivo è quello lì non sei tu l'obiettivo questo bisogna che ce l'abbiamo chiaro siamo passati in mezzo a Berlusconi abbiamo fatto via via dei passi avanti non è che, basta guardare Lombardia, Monsebrianz 4 anni fa, 5 anni fa e adesso e io ho sempre pensato, poi qui lo sanno bene che in Lombardia o veniva lì una cosa o se no è inutile noi pestavamo l'acqua nel mortaio se non veniva lì la cosa è venuta, non avevano neanche gli occhi per piangere noi in Lombardia adesso ci manca la regione e bisogna che la prendiamo oh, è bisogno che la prendiamo grazie a tutti grazie a tutti